La seconda giornata Quante occasioni avute e nel finale c'è il momento thriller che costerà la partita ai bianconeri. Ancora Cesena e ancora situazioni sbagliate dalla compagine del presidente Campedelli. Chiavarini sotto misura e l'invenzione dell'arbitro che concede alla Ravenna un rigore apparso inesistente. La rete è di Zizzari, è il pareggio a pochi minuti dalla fine. Poi i bianconeri si nervosiscono, due espulsioni, il Cesena finisce in nove e arriva anche la Beffa. Questo è Ceccarelli, espulso per fallo di reazione. L'arbitro Corletto non perdona nulla al Cesena, anzi regala al Ravenna. E come dicevamo la Beffa firmata da Gerbino Polo allo scadere.